Il Paradiso, trame 7 febbraio, Agatha crede che tra lei e Roberto possa nascere qualcosa. Anteprima del Paradisi delle Signore 8 della puntata di mercoledì 7 febbraio, Agatha Pulisci, Silvia Bruno, svela finalmente qualcosa tra lei e Roberto Olandi, Filippo Scaraffia, viene mostrato che dovrai dirti che lì lo è. Punto e c'è la possibilità che nasca una storia romantica. Intanto Tom arriva a Milano e fa scalpore a Villa Guarnieri, mentre Matilde Frigerio di Sant'Erasmo, Chiara Baschetti, si mostra riservata e sfuggente nei confronti di Vittorio Conti, Alessandro Tersini. Infine, il comandante Umberto Guarnieri, Roberto Farnesi, tenta di ricattare Matteo Portelli, Danilo D'Agostino, approfittando delle pericolose condizioni di salute di Silvana, e lo di Treccani. L'ottava stagione del Paradisi delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16 e 5 sulla rete Ammiraglia Rai, ma è anche trasmesse in streaming su Rai Pelle. Agatha crederà che possa succedere qualcosa tra lei e Roberto. Rosa, Nicoletta di Bisceglie, ha intenzione di lasciare l'appartamento di Marcello Barbieri, Pietro Mazzotti, mentre Tom arriva all'improvviso a Milano e la notizia semina lo scompiglio a Villa Guarnieri. L'amore non corrisposto di Agatha per Roberto continua, e Venus diventa ossessionata dall'inserzionista, convincendosi che tra loro potrebbe succedere qualcosa. Nel frattempo Matilde si comporta in modo poco amichevole nei confronti di Vittorio, ma il suo atteggiamento sfuggente è principalmente dovuto ai crescenti sentimenti che Frigerio nota tra Conti e Marta, Gloria Radulescu. Umberto intende sfruttare la salute precaria di Silvana per ricattare Matteo. Matteo vuole finalmente fare conoscere alla madre Silvana il suo vero stato di salute. E il commercialista del suo atelier di Milano decide di chiedere aiuto a Concetta, Gioia Spaziani. Un soggetto riceve un genitore. Anche Umberto viene a sapere che Silvana è gravemente malata e intende sfruttare questa notizia per ricattare nuovamente Matteo. Riassunto degli episodi precedenti nelle puntate precedenti del 5 e 6 febbraio, Vittorio e Marta lavorano insieme per portare avanti il progetto della casa famiglia. Matteo, però, resterà segreto sul peggioramento della salute di Silvana, mentre Rosa rimarrà colpita dall'animo nobile di Marcello. Mentre Tom contatta Marta per dirle che vuole tornare insieme. Nel frattempo, Umberto cerca un modo per ripristinare il suo legame sentimentale con Flora Gentile Ravasi, Lucrezia Massari. E alla fine scopre che Marcello non è in grado di aiutare la Contessa Adelaide, Vanessa Gravina, con l'intervento chirurgico. Sostieni Silvana. Vorrei farlo notare a Matteo. Grazie a tutti.